il bari tra poco andavi in serie a pers con la squadretta da merda avevamo ragazzi incredibile dai mandiamo la casa in fiamme ma se è la casa in fiamme sta a vincere certo bravo fai bene perché perché faccio bene però se parli di questo ce l'ho già da di l'ultimo tentativo pazzo detective conan che cazzo c'ho da detective conan anche se precedente ma a me che ne so non tipo non tanto tempo fa mi uscivano le pubblicità di rarbolle e vabbè per la minchia devi levare dai coglioni sono pesa di traia vero non c'è il 21 bello neuvile no come si chiama uno no che schifo no che vergogna c'ho visto come si chiama una me che si chiama scive o massimo levati quella schifezza di maria che c'è mo proprio nooo simona maglietta fantastica cima maglietta fantastica una maglietta fantastica no 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 an mod Un mod Oddio, oddio Quanto sono Non sapevo Ma io non sapevo che avessi la Un special Oddio E' poca Dai andiamo a vincere Si Quanto fa schifo Sto gioco di merda Ma guarda come c'era con me Braba mamma Quello ho forte e schillato Questo è quello schillato Questo è quello che attacca la voce a suo modo signori E' bra Sei fantastico Sei fortissimo Sei fortissimo Sei forte Sei fortissimo E' mia E' mia Lo sapevo che era mio Gunbreak challenge Oh 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 Eh Eh Cazzo Eh Cazzo Eh Cazzo No Il bro Mi ha lasciato Ninku Kawaii No Mi ha lasciato Il bro No Mi ha lasciato No Metroid Ligma Ligma Balls Il Fanny Va a fa Mocca Le stramurti De mamma Olè Va a fa Mocca Le strata Murtazzo De sorte Testa Mappa Di merda Che lui Lo sa bene Che io Lavo Sta Mappa Del Cazzo Mette Attenti A tutto Chi è Scusa Ma Chi è Oddio 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 Oddio